Buongiorno, benvenuti a sabato 22 aprile, sono a Firenze, anzi sui colline di Firenze adesso non si può vedere ma c'è una vista stupenda. Allora, che cosa c'è sui giornali di oggi sabato? Ovviamente la cosa fondamentale sono gli svolti a un giorno dal voto di quello che è stato il colpo delle chance di sé. Che cosa è successo? Ormai è chiaro a tutti quanti un pazzo fondamentalista islamico, nel senso che è stato poi rivendicato dall'Isis, ma che poi anche gli ha scritto e ha legato il suo attacco al fondamentalismo islamico, ha ammazzato un poliziotto e ne ha ferito un altro e ha ferito anche altre persone. Quello che oggi i giornali si chiedono è chi avvantaggerà questa operazione dal punto di vista politico. Alcuni dicono la Le Pen, altri dicono che non sta cambiando nulla, che Macron, il candidato in cui il ritratto, lo potete leggere bene, scritto da Aldo Cazzulla oggi sul Corriere della Sera, il ritratto di un banchiere, il classico esempio dell'establishment francese che comunque continua ad avere il vantaggio sui sondaggi. E poi ci sono le proposte politiche dure, Le Pen e Fillon che dicono chiudere le frontiere e espellere tutti quelli che hanno la FISH-S, cioè questa FISH, questo marchio di infamia che i servizi segreti francesi danno a 400.000 presunti criminali. E' del tutto evidente che la chiusura delle frontiere e la FISH-S sono due proposte che non hanno alcun senso dal punto di vista tecnico, perché intanto questo signore non aveva nessuna FISH-S, nonostante quello che io stesso abbia detto ieri che ho letto sui giornali, cioè non era stato attenzionato da nessuno, quindi mi scuso sulla lettura di ieri dei giornali, ho detto una cosa che ho letto sui giornali ma che non era vera, cioè questo signore non aveva nessuna FISH-S, non c'era nessuna pericolosità accertata da parte di questo signore, la pericolosità era di fatto nelle carte, non c'era bisogno di una FISH-S perché era sotto libertà vigilata, questo ha ammazzato, ha comprato un Kalashnikov mentre era sotto libertà vigilata questo signore e lo ha fatto perché un magistrato il 7 aprile, non 11 anni fa, gli ha detto che nonostante per un mese non fosse stato reperibile, era possibile che continuasse a godere dei suoi privilegi di libertà vigilata, insomma questo devo dire che per quanto riguarda il sistema della giustizia francese fa un po' pensare, quindi forse Fillon e La Penne più che pensare alle frontiere, anche perché questo era francese, più che pensare alla FISH-S perché questo non ce l'aveva, forse dovrebbero puntare di più sulla certezza delle pene, come si dice molto spesso oggi in Italia. C'è un ulteriore aspetto su questa vicenda che è colto con intelligenza del Giorno Ferrara sul foglio, in cui dice, insomma dal 2015 oggi ci sono state 230 vittime, questo signore quello che sembra è che era ossessionato dalla polizia, tant'è che attacca la polizia, aveva attaccato la polizia, aveva ferito una guardia carceraria, aveva tentato un omicidio nei confronti di un 2018, dice ferare attenzione perché questo non sembra avere il profilo dello sciadista, nel senso che è chiaramente un fondamentalista islamico, ma sembra che sia più, non è l'attentato sventato a Marsiglia, sembra veramente un ossessionato dalla polizia più che un lupo solitario grave e legato all'ISIS come abbiamo visto nelle ultime occasioni. Devo dire che il ragionamento di Ferrara non è del tutto sbagliato. Poi c'è un'ultima questione collaterale, oggi sui giornali mi ha stupito molto leggere la storia di questo poliziotto che è stato ucciso barbaramente da questo terrorista o comunque da questo delinquente e viene descritto come un poliziotto eroe. Allora con il massimo rispetto nei confronti di una persona che perde la vita per servire il popolo che lo paga, la polizia, quest'uomo ha perso la vita per fare il suo mestiere, però il principio di eroe forse è un po' esagerato, quando si leggono i giornali di oggi si capisce che il senso del suo eroismo è il fatto che lui facesse parte della categoria degli omosessuali orgogliosi, attivi della propria battaglia di libertà, è che va bene, non c'è nulla a che vedere però con il presunto eroismo di questo poliziotto, non riesco a capire cosa c'entra, non si è potuto opporre, è andato al Bataclan dopo che era stato, è partecipato al concerto di Sting dopo al Bataclan, cioè non c'è un elemento di eroismo, cioè io conterrei non so come dire, forse eroisti, eroi sono quelli che hanno un atteggiamento anche, non so, il rispetto nei confronti di un morto mi rende, mi rende come possiamo dire un po' prudente, ma quando leggo l'eroismo di questo uomo penso semplicemente che ci sia il fanatismo dei nostri giornalisti che diventa un eroe tutti quanti morti, se domani mattina mi ammazzano per strada uno giadista, purtroppo io non sono un eroe, sono semplicemente una vittima di quell'attacco, se lo fa un poliziotto purtroppo non è neanche lui un eroe, mi spiace dirlo, ma è quello che penso quando leggo questa ipocrisia dei giornali italiani per cui il poliziotto diventa immediatamente eroe. Seconda questione di giornata è la questione di Cantone, il governo ha subito rimesso mano a quella norma che aveva previsto due giorni fa, ha detto di rimettere mano a quella norma che aveva visto due giorni fa, per la quale sarebbe cambiata la legge sugli appalti che dava dei poteri speciali a Cantone, il grafico migliore lo fa oggi Repubblica, in cui ci racconta Repubblica che cosa consistesse questa norma, e cioè Cantone e la sua autorità contro la corruzione può intervenire prima ancora della magistratura nel sanzionare un'amministrazione che secondo l'autorità nazionale anticorruzione sarebbe sospettata di fare degli appalti non perfetti secondo la legge, quindi avrebbe un potere precedente a quello del Tarre, dei giudici e di tutti gli altri e questa norma era stata cambiata dal Consiglio dei Ministri perché viene considerata una norma in cui si esondano i poteri dell'ANAC, quindi una cosa perfettamente legittima, ovviamente ieri il fatto e tanti altri giornali hanno gridato allo scandalo, la riduzione dei poteri di Cantone, in realtà hanno dato un piccolo potere editoriale a un'autorità che in realtà potrebbe essere confinata nel suo ambito, non vuol dire essere a favore della corruzione nel togliere un potere speciale all'ANAC e chi lo scrive bene oggi è Sallusti e si chiede se la corruzione è un problema e se la lotta alla corruzione prevede delle leggi speciali che violano i diritti di libertà delle imprese, dei singoli, che violano anche la nostra Costituzione, per quale motivo non si considera anche l'immigrazione, la criminalità e la sicurezza, dice Sallusti, una emergenza e non si fanno leggi speciali anche su quello. Ah, su quello non si può fare, mentre invece sulla corruzione sì, si possono dare maggiori poteri ad ANAC, mentre non si potrebbero dare maggiori poteri a un grande scerifo per la sicurezza, dico io a caso. Devo dire che… bravo Filippo, scusatemi, Filippo Morini ora mi scrive che i poliziotti che hanno ucciso l'attentatore di Berlino non hanno avuto le medaglie al valore per le loro idee politiche, vi ricordate che l'attentatore di Berlino, questo Amri fu ucciso in Italia da due poliziotti che lo beccarono e poi lo ammazzarono perché lui cercò di rispondere al fuoco? Bene, quei due poliziotti non hanno avuto, anzi sono stati sputtanati perché gli è stato detto il nome e il cognome e quindi devono fare una vita riservata oggi e non hanno avuto alcuna medaglia per aver fatto una cosa sacrosanta, cioè uccidere una persona che stava per ucciderli e che aveva già ucciso delle persone a Berlino, neanche un grazie, bravi. Ultima questione, altre ultime due questioni, Fitch declassa l'Italia, hanno buon gioco sia Massimo Giannini sulla Repubblica sia il sole 24 ore a dire, per esempio non sarebbe male che la manovra finanziaria, sono 11 giorni che ce l'hanno promessa, ancora non l'abbiamo vista, quella da 3,4 miliardi, questo non fa bene all'Italia, Fitch la declassa perché dice che aveva un debito senza controllo e ultima cosa, ma non ultima, è Grillo, è il Movimento 5 Stelle, si accorge che le ONG che salvano migliaia di vite in realtà lo fanno forse, questi soccorsi in mare vengono fatti contro il buonsenso perché vengono fatti addirittura andando ad incentivare sulle coste libiche gli esodi di profughi, questa è la tesi ovviamente di quelli che considerano l'attività delle ONG un'attività pericolosa per la tenuta dell'immigrazione nel nostro paese. Regina Cantrambone è una di quelle finanziatrici delle ONG, in particolare della Moas, che è stata fondata proprio nel 2013, proprio all'inizio dell'emergenza, è stata intervistata oggi dal Corriere della Sera e spiega perché invece il loro comportamento è legittimo e dicono noi vogliamo salvare le vite di tante persone che vogliono scappare dai paesi in guerra, le salvano prendendole dalle coste e portandole sulle coste italiane e non sui porti più vicini, mi chiedo io, e poi quando vengono in Italia come le salvano le vite, come pensano di aver risolto il problema, questi geni, filantropi che ci portano 200 mila persone in Italia e poi dopo una volta che le hanno sbarcate sul territorio italiano sono cazzi vostri, scusate la volgarità, una volta che sono arrivate qua alla signora regina Cantrabrone che è la miliardaria che vive a Malta e che ha messo su queste navi di salvataggio, gli chiedo e poi dopo che sono arrivate in Italia chi ci pensa queste persone? Le avete salvati? Bravi, poi dopo? Insomma io direi che con questo è tutto, vi do appuntamento domani domenica, vi ricordo che domani faremo uno speciale domenica sera sulle elezioni francese, sul rischio del terrorismo e sui candidati che andranno al ballottaggio nelle elezioni oggi forse più importanti che ci sono in Europa che sono appunto quelle francesi. A domani, buona domenica e buon fine settimana, ciao! Grazie!